L'Occidente a cosa pensa, Malanna? Credo che andranno discusse in sedi appropriate. È chiaro che devono essere misure che colpiscano sul serio le sanzioni che sono state implementate fin dal 2014 per la nessione della Crimea. Si sono dimostrate e in realtà hanno fatto più danno all'Occidente che non alla Russia e la spinta a cercare e trovare nuovi mercati sia per gli acquisti, sia per le importazioni sia per le esportazioni altrove senza particolare difficoltà mentre invece senza dubbio i paesi occidentali e soprattutto l'Italia hanno perso delle quote di esportazione notevoli e dunque bisogna seguire altre strade che devono essere credibili. Senta, ieri prima che la situazione precipitasse c'è stata l'informativa del Ministro degli Esteri Di Maio alle Camere oggi anche il suo partito, Fratelli d'Italia, chiede di sentire il Presidente del Consiglio Draghi ho visto che c'è già questa richiesta per esempio da parte del Partito Democratico e mi pare che Draghi era previsto un suo intervento la prossima settimana ma abbiamo visto insomma appunto il precipitare della situazione. Malanna? Noi l'abbiamo chiesto credo per primi, comunque da diversi giorni, il 15 febbraio abbiamo chiesto questo intervento del Presidente Draghi, il fatto di averlo annunciato per la settimana prossima indica che ho proprio la volontà di non dire nulla prima che avvenissero i fatti oppure della scarsa consapevolezza dell'urgenza della situazione. È avvenuto il Ministro degli Esteri Di Maio, va bene, però insomma era preannunciato questo intervento importante di Draghi che non abbiamo visto, intervento parlo a livello internazionale, di Draghi che non abbiamo visto che non è avvenuto, sarebbe stato opportuno informare le Camere in modo completo e concreto speriamo che avvenga presto perché noi da parte nostra ovviamente la piena disponibilità ad appoggiare le iniziative appropriate. Certo si sarebbe dovuto agire prima, si sarebbe dovuto creare una maggiore credibilità occidentale in tutta la politica internazionale, la politica europea è stata purtroppo totalmente assente e finisce che siamo schiacciati dalle iniziative di altri, oggi di Putin ma ieri di una iniziativa americana che non è stata davvero adeguata ma quella europea è stata del tutto assente.